Un compleanno a cifra tonda, ma anche un parziale ritorno alle origini. Ecco cosa rappresenta la ventesima edizione di Brodetto Fest, in programma a Fano dal 9 all'11 settembre con un format che ricorda quello pre-Covid, dopo due anni di manifestazione durante i quali si è potuto degustare la tradizionale zuppa di pesce soltanto nei locali aderenti. Quest'anno ritorneremo a sentire il profumo di questo piatto al Lido di Fano. Tornerà il palco centrale e il Brodetto verrà fatto dai pescatori direttamente, perciò non andremo a ostacolare il lavoro dei ristoratori, questo assolutamente nessuna concorrenza, però almeno una specie di street food o assaggio di Brodetto quest'anno sarà al Lido. Perciò per tutte e anche quelle persone, abbiamo pensato anche a tutte quelle persone che non abitualmente vanno al ristorante, avranno la possibilità di venire al Lido, assistere a dei interessanti talk show, cooking show di grandi chef, beh, oltre a questo avranno la possibilità di ritornare ad assaggiare il Brodetto fanese fatto dai pescatori e questa secondo me è la cosa più importante. Organizzato da confesercenti Pesar Urbino e Comune di Fano, Brodetto Fest alzerà il sipario alle ore 19 di venerdì 9 settembre, poi via con gli incontri, le degustazioni, i cooking show con grandi nomi dello spettacolo come Gianmarco Tognazzi, Alessandro Cecchi Paone, Vinicio Marchioni e l'immancabile Federico Quaranta, ma soprattutto con gli chef che hanno fatto la storia della cucina italiana. Anche quest'anno spazio alla pizza e alla moretta fanese, senza dimenticare i laboratori per bambini di Brodetto & Kids, la Brodetto Cup di Windsurf, le uscite in barca e le escursioni di Brodetto Tour. Il Brodetto è la storia della nostra marineria, tutti sanno che nasce proprio dal risultato del pesce povero, che oggi è diventato pesce ricco e prelibato, ma è un evento un po' per tutti i gusti perché si parla di cucina, si parla di zuppe, ma si parla di vino, si parla di iniziative artistiche, musicali, quindi c'è un po' di tutto ed è quello che mi piace sottolineare però che è una manifestazione che anno dopo anno cresce, che sa mettere tutto insieme e coinvolge la città, coinvolge gli storatori, insomma coinvolge un indotto che è legato in qualche modo con il mare e soprattutto raccontare noi stessi, raccontare il nostro rapporto con la nostra tradizione marinara, il nostro rapporto con il mare e con la pesca. Soprattutto l'importanza per noi di destagionalizzare, perché arriva in un momento dove tutti hanno la sensazione che la stagione sia finita, invece la stagione continua con la valorizzazione di alcune caratteristiche importanti, la nostra gastronomia, la nostra marineria e quindi il lavoro fatto dalle nostre genti nel mare, ecco quindi il Festival del Brodetto per noi ha questo significato che è molto importante. Tra l'altro abbiamo presentato un progetto molto importante poco tempo fa, quindi la possibilità di un tour guidato e di visita al nostro porto e alle tradizioni marinare, tra l'altro durante il Festival del Brodetto ci sarà una novità rispetto a questo tour, perché ci sarà un mezzo con dei video che racconteranno questo particolare luogo e questa particolare tradizione della nostra città e sempre all'interno del Brodetto presenteremo un altro progetto, un altro cluster della nostra città che fanno gastronomica e sarà una rete dei ristoranti del mare che vogliono valorizzare il pescato dell'Adriatico, le nostre tradizioni, quindi la possibilità di inquadrare dei ristoratori, dei cuochi e le possibilità per i nostri turisti ma anche per i cittadini della nostra città di andare in dei locali che insomma avranno un marchio di tutela per le nostre tradizioni. Un giro di boa tutt'altro che simbolico quello di Brodetto Fest, che consente a confesercenti di constatare il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi. Prima di tutto di allungare la stagione turistica di almeno 15 giorni, almeno fino alla metà di settembre e l'abbiamo sempre fatto. L'altro è quello di aver portato uno dei piatti che era scomparso dalle nostre tavole ma rimaneva soltanto sulle tavole dei privati nei giorni di festa. Oggi il Brodetto Fanese lo troviamo su tutti i ristoranti della città nel menù e questo secondo me è una cosa importante. L'ultimo obiettivo che ci tengo in modo particolare è quello che in questi anni abbiamo superato anche la diffidenza della città nei confronti del piatto, nei confronti di questa promozione. La diffidenza era dovuta al fatto che veniva effettuato nei periodi di fermo pesca perciò io sono orgoglioso che oggi questo evento sia diventato uno dei primi eventi della città di Fano e questo è già tanto, ma non solo. Quando andiamo fuori da Fano, andiamo in altre zone in Italia, quando parliamo di Fano, la prima cosa che ci dicono che viene in mente è Brodetto. Dopodiché viene Moretta e la terza parola è Bianchello del Metauro. Questo vuol dire che abbiamo lavorato bene in questi 20 anni. Nel 2003 avevamo due tavolate sotto la pioggia al Pincio di Fano e è iniziata la storia di una promozione della città, di una visibilità che si è stata riconosciuta a livello nazionale e internazionale.